ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video del gobo toscano attenzione 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 perché non è non è finita qua non sembra ogni momento cambiare qualcosa e soprattutto cambiare tanto per quanto riguarda i giornalisti sul che parlano di calcio mercato hanno un po di secondo me difficoltà a analizzare giuntoli e capire cosa in serbo per la juventus e per noi tifosi ma succede tutto in queste ore di marzio fa una dichiarazione nella tarda serata di ieri sera quindi stanotte ora sono le 9 e 38 vi riportiamo le sue parole ma attenzione che poi ci facciamo anche una bellissima chiacchierata sotto quindi prima di cominciare con il video ragazzi mi raccomando like iscrizione commento condivisione attivazione della campanella in più scendete qui sotto in descrizione c'è il link del nostro secondo canale calcio news 24 che vi sarà sicuramente utile per capire un po tutte le dinamiche delle partite delle squadre della serie a anche perché almeno li andremo a analizzare anche il pro i prossimi avversari della juventus no perché se parliamo di tutta la serie a e facciamo un giorno il video sul verona la prossima c'è il verona e quindi capiamo un po la squadra che andiamo ad affrontare scusate stato se non se ne va sky di marzio non ancora raggiunto accordo juve fiorentina per nico gonzales e gli ultimi aggiornamenti ora intanto partiamo dal presupposto che ieri era fatto ieri sera non è fatto l'altro ieri non era fatto tre giorni fa era fatto tutto fatto tutto non fatto però vedo che vi scagliate sempre comunque contro noi poveri cristiani che cerchiamo di di metterci il massimo impegno la massima passione ovviamente non abbiamo nei mezzi nelle conoscenze di giornalisti affermati che vanno in onda su sky su da zone su mediaset però con noi vi scagliate quando di marzio romano pedullà sbagliano qualcosa o rallentano cambiano opinione tutto bene anzi venite in chat ma di marcia detto così sì ma non vi ricordate cosa ha detto il giorno prima perché se fate questo lavoro questa attività chiamiamola così di ricerca dell'informazione del calcio mercato dovreste ricordarvi essere bravi a ricordarvi anche quello che leggete il giorno prima non che leggete bu e buttate fuori che sia un video per chi fa contenuti e che sia un commento per chi è semplicemente uno spettatore quindi questo video se volete far bene questa attività fatela bene cercate 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 mettete sul piano tutte le informazioni che avete provate a dare voi una conclusione io ve lo dico sempre ascoltate anche gli youtuber ascoltateli tutti perché così avrete più punti di vista cioè io non è che vedo youtube come una gara a chi fa più visual cioè ognuno interpreta il tubo a modo suo no e quindi non capisco perché uno dice ma io se vado in live da quello non posso andare da quell'altro se sono iscritto a quello non posso essere iscritto a quell'altro questa semplicemente una mentalità ristretta di persone con purtroppo diversi problemini alla base ma qui non ne vogliamo parlare ne parleremo poi in futuro delle persone con i problemini alla base ma leggiamo cosa dice di marzio l'atalanta c'è sempre stata su nico ovviamente anzi forse è stata la prima a muoversi inizio giugno su nico gonzalez poi c'è stata un'irruzione forte da parte della juve e poi chiaramente quando entrano in campo club come la juve per il giocatore stesso per la testa del giocatore la juventus è andata assolutamente in prima fila è normalissimo la novità è che c'è stato questo famoso incontro di cui avevamo parlato ieri sera il primo contatto diretto fra juve e fiorentina ma l'accordo non è stato ancora raggiunto la fiorentina era partita ieri da una richiesta di 40 milioni di euro brividi la juventus è partita da 30 aggiungendo alcuni bonus possibile la fiorentina scenda ma non più di 38 bonus inclusi ma mi pare una follia la fiorentina vuole davvero tenere il prezzo molto alto di nico gonzalez ci vorrà quindi un ulteriore sforzo della juventus e un passo indietro da parte della fiorentina per cercare di arrivare all'intesa nelle prossime ore nei prossimi giorni la juventus vuole fare questa operazione la fiorentina vuole cederlo alle ma alle sue condizioni la fiorentina ha metabolizzato che il giocatore non vuole vuole andare ma il prezzo lo fa la fiorentina il presidente commisso probabilmente il fatto di voler cedere un altro giocatore alla juventus è una cosa che non fa piacere ad un presidente della fiorentina quindi vuole quel tipo di cifra ora ogni fa bene hanno fatti viola park con le cessioni di bernardeschi chiese vlaovic quindi parliamone probabilmente no difficile quindi che la fiorentina scenda a 35 milioni deve essere la juve ad aumentare un po la parte fissa i bonus per arrivare alla chiusura dell'affare l'atalanta credo sia dietro ora che la juventus debba alzare a 38 milioni non uno di meno per nico gonzalez io veramente pagarlo 10 milioni in più di quello che è stato pagato sulle che per carità ha fatto male alla roma la prima partita ma ragazzi il campionato è lungo ma di che volevi chiacchia nico gonzalez 10 milioni in più di sulle non lo so non lo so e 20 milioni in più di huizen cioè i prezzi è vero li può fa commisso ma li deve fare in base a quello è il mercato cioè nico gonzalez sa un'offerta del genere da qualche altra parte e allora che lo vendano di là se non lo stanno vendendo da altre parti a parità di offerta vuol dire che tutti stanno offrendo meno di quello richiesto dalla fiorentina ovvero l'atalanta sta offrendo 30 milioni la juventus ne sta offrendo 30 più 2 o 30 più 28 più costi 25 più costi quello che vogliamo noi ma se ci fosse una squadra che avesse offerto 38 milioni la fiorentina avrebbe già detto sia la cessione non credo che nico gonzalez si fatto troppi problemi vedendo anche il la juventus bloccata no da questo punto di vista sulla trattativa e io ripeto forse è bloccata perché nico gonzalez può essere un affare last minute in caso di mancato arrivo di altri esterni offensivi anche perché facendo arrivare cop miners ricordatevi cop miners può agire in occasione occasionalmente anche sulla corsia esterna di destra quindi in caso se fai arrivare un esterno destro importante un sancio un conseil sao oltre a cop miners secondo me non hai bisogno di prendere anche un nico gonzalez perché sì numericamente parlando c'è alla destra ci sarebbe con sei sao sancho più a sulla sinistra e poi c'è occasionalmente anche cambiaso è perché contro il verona dovrebbe giocare lui esterno alto dall'altra parte a ildiz in bangula basterebbe semplicemente trovare quella esterno offensivo che ti possa dare una mano in quel in casi di problematiche infortuni squalifiche e quant'altro e con l'arrivo di cop miners cop miners lo puoi mettere anche sull'esterno cioè non è non cop miners fa tutti i ruoli del centro campo può fare anche la punta quindi tra l'altro mi è arrivato un dolore durante il video al ginocchio pazzesco pazzesco spero non sia nulla di che ma ho fatto un movimento strano madonna pazzesco 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 scusatemi ragazzi avevo un attimo interrotto il video perché passò dieci minuti di inferno veramente dieci minuti di inferno mi è preso una fitta al ginocchio sinistro non è quello operato ma fuori di testa e ora mi fa malissimo a tenerlo piegato vabbè finiamo il video che poi qualcosa devo fare ci metterò del ghiaccio ma non ho preso una botta quindi stranissimo è stranissimo ha fatto un movimento innaturale nel sotto la la sedia ma mi preoccupo mi preoccupo molto anche perché non ho un tono muscolare importante ora sono diversi mesi che sono fermo da qualsiasi tipo di attività fisica e quindi l'infortunio è dietro l'angolo allora vi stavo dicendo che comunque basterebbe anche semplicemente un innesto oltre a copminers quindi vediamo quello che può succedere vediamo se commisso abbasterà le pretese ma io non credo e 38 milioni fatemi dire la mia io non lo prenderei e non credo che la juventus sia così folle da spendere quella cifra ovvero dieci milioni in più di quello che abbiamo preso da sulè per prendere nico gonzalez cioè io vendo giovani promettenti per la juve per prendere qualche giocatore forte e promettente o dei fuori classe non per prendere un giocatore normale un buon giocatore che ha giocato nella fiorentina ok ragazzi ditemi la vostra opinione sulla situazione di marcio intanto ha detto che ora è tutto fermo vediamo se fra due ore dirà a fare in conclusione perché solitamente succede così ma mettiamoci del nostro a spiegarvi le cose stasera lo riporteremo anche questo argomento in live mi raccomando 22 e 30 non mancate fino alla fine gobbo toscano e fino alla fine forza juve perché il gobbo toscano siete tutti voi mi raccomando iscrivetevi e iscrivetevi anche sotto in descrizione al nostro secondo canale youtube calcio news 24 ciao a tutti ragazzi a stasera